Buonasera, oggi partiamo con la seconda tappa delle presentazioni delle sperimentazioni 5G in Italia. Abbiamo, come ha detto Raffaele, due presentazioni, la prima quella relativa all'area di Bari Matera e la seconda Roma. Bari Matera è una sperimentazione MISE, quindi si riferisce ancora alla pubblicazione da parte del MISE del bando per l'assegnazione di frequenze per lo sviluppo di test precommerciali in Italia. Le due città Bari Matera sono state selezionate dal MISE. Bari è punto di partenza dell'ottavo corridoio paneuropeo per il trasporto di merci e persone e Matera per il suo ruolo di capitale europeo europea della cultura del 2019. Quindi col focus, diciamo, poi sentiremo le presentazioni, ma sostanzialmente trasporti, il porto, lo sportport e il turismo. Ci sono state le prime accensioni di siti nel 2018. A Bari, mi sembra, a marzo e a Matera a luglio, a febbraio. Ok, a febbraio, sì. Quindi poi ci racconteranno appunto quali sono le sperimentazioni messe in campo. Per quanto riguarda Roma, abbiamo un accordo siglato fra Roma Capitale e FastWeb per la realizzazione di sperimentazione 5G, da cui poi dopo si sono uniti, se non sbaglio, Ericsson e ZTE. E quindi c'è stata anche in questo caso l'accensione di un sito durante quest'anno, mi sembra, presso una biblioteca dell'area di Roma.